Oggi non va niente, secondo i miei piani. Sono molto avirato. Credo di aver dovuto annullare tre video a causa dei problemi di questa giornata, quindi devo mangiare le tortillas. Per tranquillizzarmi. La verità è che avevo preso le tortillas per un video, ma me le sono mangiate. Credo di aver preso un chilo solo oggi, mangiando patatine. E patatine al formaggio. Riguarda le patatine al formaggio, non credo che siano più buone delle tortillas. Sanno di piedi. E poi, quando le mangio ho sempre la sensazione di avere un sacco di roba impastata in bocca. Disgustose. Credo che tornerò a mangiare le tortillas. Sono contento che vi sia piaciuto il video di ieri, nel quale ho fatto quella lettera da Di Fiori. Se avete altre idee di cose da fare, che vorreste che io facessi per voi, scrivetemele nei commenti. Potreste incominciare. ho voglia di cioccolata. La cioccolata mi tirerebbe di sicuro su di morale. La verità è che oggi sono di malumore e questo si riflette nella mia persona. Mi dispiace, ma devo cancellare questa giornata dai miei ricordi. Ci vediamo al prossimo video.